il nostro condottiero si il nostro condottiero è inserato e non ci ha ammbrato se ne è giusto arrivederci e grazie e per chi si è consicuro da un labbiolo? un labbiolo con tutti deve essere così ora mi ha avuto ammbrato è stato bravino di calciatore bravino? bravino? niente di eccezionale labbiolo? niente di eccezionale non ci ha mandato ammbrato non ci ha mandato ammbrato, non ci ha mandato ammbrato ha fatto la scelta giusto? è giusto salutarlo? è giusto così, un saluto, fa un buon campionato alla Spagna e la maronna del cubano, ciao tu dici? ah si, che bufavo lì, abbiamo cattato a biondo non erano faii, non erano faii, non erano faii a biondo, abbiamo fatto queste cose di ridicole è finito, basta, non ti ha ammbrato più di tante non ti ha mandato ammbrato, non ci sei venuto ma non lascia, barbetta ha deciso se lo pigliava si, che sta prendendo carattere ora stavo facendo prima di fare tutte le discussioni la mogliere si va d'accordo con l'allenatore la mogliere, la mogliere, il frate, vai niente e poi addio vedrà ma non ha fatto le mani su a me mi dispiace la biondo sono tutto bacchetto ma ti fa buono si con gli aiuti e bastà ha detto grazie senza t'annamore ma sulla torta non è la miaa mi ha rip necessarily perché sono drauf questo è il Hamid tutto lì ci dice Dottrice, noi spendiamo questi soldi, noi teniamo una grande centrale, l'ho aperto, per farmi guardare l'ho aperto. Sì, ma dimmi una cosa, il palo della luce sta sempre là. Eh, il palo della luce è un problema uno, è un problema grande il palo della luce, il palo della luce poi è un palo della luce pure che la lampetina ha studiato. Eh, i miei ricchi non hanno da venire, mi ha pensato in vacanza. Eh, ma quello che stai, Ancelotti? Abbiamo il nostro bomber. Eh, abbiamo il nostro bomber, Milic, ora ti prendi la ghetta, se lo trovi questo Napoli faccia prendere, appena prende il pallone, che li taglia tra la palla e la barretta, eh, questo è un problema, se io che Milic si taglia il nebbio, che Milic mentre confie il ruolo, levo il freno a mano, si è fatta notte, e poi chi l'ha sbagliato i passaggi, capisci? Che bello, che non era da niente. Ma ora parliamo seriamente, se il Napoli prende la ghetta e la ricchezza, dopo Maradona, dopo Maradona, Sto dicendo, dopo Maradona, un Napoli quando mai ha fatto un acquistaggio? Sto dicendo, dopo Maradona, un Napoli quando mai ha fatto un acquistaggio? Sto dicendo una cosa, ti sto dicendo, dopo Maradona, un Napoli con la sua caratura quando mai l'ha cattato? Mai. E allora, che stai super? E non mai lo puoi cattare. E non mai lo puoi cattare. Ma mai lo puoi cattare, anche Rodrigo, questo qua, come si chiama? Non bene. Quanto è? No, io sto dicendo, se è venisse. Ma pure si viene, che fa? Che riesci, che fa? Come stai a fare? Con la Maradona? Sto dicendo, sto dicendo, il dopo. Il dopo? Il dopo Maradona? Il dopo Maradona? Mi sembra sempre guardare con Pippo la ricchezza. Buona cosa, mi va a cattare. Poi quando l'hai cattato, ti vai in due rettang, lei ilucca mi, ilucca mi e poi ti giudicherò. Ciao!